Abbiamo appena iniziato, però è comunque importante perché affrontiamo due squadre che come noi si retrocessero l'anno scorso fuori casa e dobbiamo cercare di dimostrare i nostri progressi da subito, già dalla partita di Carpi. Sicuramente l'emozione che ha dato vincere il derby deve darci ancora più forza per preparare le prossime partite, l'entusiasmo che c'è nella piazza, che abbiamo noi, perché comunque una vittoria così importante ti dà entusiasmo, ti dà, come hai detto, carburante, forse è la parola giusta, per preparare partite difficili e importanti che sappiamo che mettere subito in cascina dei punti può essere importante per il proseguimento del campionato. Spero nove, noi giochiamo per conquistare nove punti, poi ci sono anche gli avversari ovviamente, noi andiamo in campo ogni partita per vincerla, deve essere il nostro obiettivo. Penso che più degli altri anni possa essere un campionato livellato, in cui è veramente difficile fare punti su ogni campo, in cui ogni squadra può dirla sua, al di là dei valori sulla carta. Quindi credo che sia un campionato molto bello, appassionante.